È un convegno che terremo qui a Nereto il 18 aprile, un convegno organizzato dal Lion Club Val Vibrata che ha come tema appunto quello dell'acqua, organizzato in occasione della giornata mondiale della terra ed è un evento promosso dalla nostra associazione appunto per sensibilizzare comunque tutto il territorio, la nostra comunità su uno dei problemi ambientali che comunque riguarda tutta la vallata appunto del Vibrata. Il convegno si terrà appunto nella scuola della ragioneria, nell'aula magna e sarà organizzato in due sessioni di lavoro. Ci sarà la sessione della mattina dove ci saranno dei relatori con l'intenzione appunto di affrontare tutte le questioni di carattere tecnico-scientifico sugli aspetti del Vibrata. In particolare ci saranno dei professori che verranno dall'Università di Ancona, sono dei geologi che ci parleranno delle questioni dei bacini idrografici del medio adriatico per arrivare comunque appunto a trattare il tema del Vibrata. Poi ci sarà anche l'intervento dell'Università di Camerino con il professor Marco Di Annuntis che ci parlerà anche di un progetto elaborato dal commissionato dall'Unione dei Comuni che affronterà tutte le questioni legate comunque alla possibilità di un riuso delle sponde appunto del Vibrata che può essere utilizzato come un percorso di risalita, fruibile, un percorso culturale che possa partire comunque dalla costa per arrivare fino alle aree interne. Tra i relatori presenti al convegno il geologo Giovanni Marrone che affronterà il tema dell'inquinamento del fiume Vibrata. Dobbiamo sottolineare il fatto che abbiamo delle acque in falda che sono tremendamente inquinate quindi non si può neanche più utilizzarla per uso agricolo e quindi questi sono i più grandi problemi che abbiamo sul Vibrata in questo momento. Il problema più grande lo abbiamo a Monte, presenza di Salmonella, al centro della Val Vibrata abbiamo dei problemi relativi a metalli pesanti e poi alla fine abbiamo anche dei problemi relativi ai nitrati, nitriti e a quanti altri problemi anche legati all'ingressione salmastra insomma. Poi abbiamo constatato che ci sono dei problemi legati in qualche parte ai depuratori però il problema non è legato soltanto ai depuratori ma è legato a una serie di problematiche dove c'è stata di mezzo la cattiva gestione politica di questi ultimi 10, 15, 20 anni sul territorio.